Per i familiari delle vittime c'è un ergastro certo, che è l'ergastro del dolore, che è per sempre, che non ha sconti, che non ha grazie, che non ha nulla. Almeno ci sia giustizia, una giustizia vera però, che sa dare valore al bene che è stato sottratto, che è il bene più grande che abbiamo, che è il bene vita. L'appuntamento è davanti al Tribunale di Milano alle 11. E' un po' ad attendere, perché credo che l'ergastolo dovrebbe ottenerlo Cabobo e tutti i Cabobo d'Italia, non solo, perché la vita, ripeto, deve avere un prezzo e quel prezzo, io dico sempre, si chiama libertà, una libertà che lo Stato ha il dovere di negare. Grazie, grazie a Barbara Benedettelli, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, questo è l'appuntamento e permettetemi ancora un secondo di ricordare e di essere vicino alle famiglie per le tre vittime, Daniele Carella, 21 anni, Alessandro Carole, 40 e Masini, 64. Ovviamente questo, al di là dell'iniziativa, è un abbraccio a tutte le famiglie, che come diceva Benedettelli, insomma, l'ergastolo ormai lo avranno per sempre. Prego Celestino. Ma parlavamo dunque della situazione legata ai giovani, proprio la domanda del tele... Sì, e lui giustamente diceva, imbarazzante, un paese del terzo mondo, quarto, quinto, sesto... In effetti, i temi che stiamo per gestire con questa discussione del Job Act, stanno per gestire la Camera, devono riguardare, per forza di cose, non limitatamente dei provvedimenti che possano dare lavoro ai giovani, provvedimenti che per forza di cose potranno non essere solamente a tempo determinato, quindi non risolvere il problema. Io credo che il mercato del lavoro vada affrontato nella sua interezza. Oggi non possiamo considerare che la nostra società inserisce dei giovani a 800 euro, come diceva prima il radioascoltatore, e mantiene all'interno del mercato del lavoro delle persone che sono arrivate alla maturità professionale, che si devono fermare fino a quasi 67 anni, per effetto delle riforme del governo Monti, e che hanno una redditività in quel momento a 67 anni che è il massimo rispetto alla propria vita. Se il mercato del lavoro è un mercato che funziona, deve essere un mercato del lavoro che funziona sia per chi deve fermarsi fino a 67 anni per ottenere una pensione che sia una pensione dignitosa, sia possa far rientrare tutti i giovani che cercano lavoro, cioè che non sono collocati nella fase degli studi o nella fase, ad esempio, del volontariato o dell'impresa. Per fare questo io credo che la riforma fondamentale sia quella che vada nel senso di garantire che la maggiore redditività nell'arco di una vita di lavoro, perché qui parliamo di 45 anni di contributi, cioè non si risolve in 2-3 anni di tempo determinato, sono 45 anni in cui i ragazzi che oggi entrano nel mondo del lavoro dovranno affrontare per ottenere una pensione. In questa fase di 45 anni, nell'età anagrafica tra i 40 anni e i 60 anni, dobbiamo avere il massimo della redditività, cioè quando il soggetto dà il massimo del suo contribuzione dal punto di vista lavorativo e professionale, insieme chiaramente a una defiscalizzazione per le imprese e soprattutto a una facilitazione per coloro che sono i giovani, che hanno delle idee e possono realizzare nuove imprese, cosa che oggi fanno all'estero. Questa è la voce di Giorgio Celestino, Forza Italia, Onorevole Mazzotti, scelta civica. Ma io credo che tutte le prese di posizioni che partono dal mercato del lavoro sono corrette, ma il vero problema è il mercato del lavoro inteso come uno degli strumenti attraverso i quali le imprese diventano più efficienti, più redditizie sono in grado di assumere, perché anche la curva del reddito la determinano tra i 40 e i 60 anni le imprese che ti pagano. Quindi il problema è che io non è che posso costringere un'impresa a cagare più un 40enne di un 30enne o un 60enne. Il problema vero è che noi abbiamo delle imprese che sono sovraccariche di tasse per colpa di debito e spesa pubblica, che sono sovraccariche di oneri burocratici che pagano l'energia un terzo più degli altri paesi d'Europa perché paghiamo incentivi a casaccio e perché abbiamo gestito male i rapporti di acquisto di gas e petrolio. Questi sono i problemi che vanno attaccati. Esatto, perché se io non risolvo quelli posso fare mille incentivi per i giovani, ma quei giovani rimangono spot elettorali, come si è dicati a dire. Esatto, diventano degli spot elettorali. Infatti la cosa fondamentale in questo momento è l'attacco al tema spesa pubblica, che non vuol dire fare quello che hanno fatto molti governi con i famosi tagli lineari, vuol dire intervenire su aspetti specifici che non funzionano. E questo determina il fatto che si vanno a colpire gruppi di interesse specifici e quindi che la gente si arrabbia all'interno dei singoli partiti. Se Renzi avrà la forza, lui ha la forza mediatica per farlo, più di, ad esempio, Monti ci ha sicuramente provato, ma non aveva né la forza parlamentare quando era al governo perché non aveva i voti, né il tipo di sostegno mediatico che ha avuto. Lui ha fatto la riforma delle pensioni. All'inizio Monti aveva... Infatti ha fatto la riforma delle pensioni che Berlusconi aveva provato a fare nel 94 e Berlusconi ci è caduto sopra e Monti è passato semplicemente perché c'era la crisi. Ma questo è stato il punto. Con superficialità l'ha fatto. Come? Con superficialità, perché gli effetti si sono visti. No, lui ha fatto... Ha creato un problema sul tema esodati, che era un problema importante, dove c'è stata superficialità. Assolutamente. Si erano anche accorti che senza quell'intervento tu non avresti avuto i soldi per pagare le pensioni, che era un tema un po' maggiore. Beh, anche questo poi è stato provato che poi non era proprio così. No, dire che è stato provato lo ha detto Brunetta, non è stato provato. Lo dice Brunetta da anni, l'unica cosa provata è che avevamo, diciamo, tassi di interesse che erano quasi il doppio in quel momento, quindi questo lo abbiamo provato sicuramente. Poi per il resto abbiamo le affermazioni di Brunetta. Detto questo, il sistema è oggi un sistema che va riformato duramente e velocemente. Renzi ha capito, credo che sia lodevole, che va fatto con brutalità, in un certo senso, perché nel PD ci sono resistenze tali, soprattutto nel PD, che se quel tipo di incrostazioni o lo prende a testate, dico io, o non esce, lui lo sa benissimo. Quindi la sua sfida è su questo. Se no, noi la crisi non la superiamo. E su questo sì, certo. Sono d'accordo perché per la prima volta il segretario del Partito Democratico fa un'opposizione interna all'area radicale del partito. Mentre nel passato, negli ultimi vent'anni, avveniva dall'esterno, quindi da Berlusconi, da quelli che erano i moderati del paese, oggi avviene dall'interno. E vedremo cosa succederà. Anche perché siamo dove si dice proprio la frutta, non è che ci si può... La domanda però potrebbe essere una, se mi permette. Prego. Questa benedetta siringa nei costi standard. Riuscirà Renzi a farla costare lo stesso prezzo? Da nord a sud? Da nord a sud. O da sud a nord. Esatto. Ci fermiamo un attimo perché dobbiamo dare la linea alla nostra redazione. La voce è quella di Paola Farina con le ultimissime news dalla Lombardia. Te Paola? Sì, grazie Laura. La procura sarebbe stato vittima di una coppia diabolica. L'imprenditore Paolo Vivacqua di Desio, in Brianza, ucciso a colpi di pistola nel suo ufficio nel novembre del 2011. Le indagini della procura di Monza hanno portato a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex moglie dell'imprenditore Germania Biondo, 48 anni, e del suo amante Diego Barba, di 56 anni, di due presunti sicari già in carcere per il successivo omicidio della consuocera di Vivacqua e dell'intermediario che, secondo gli inquirenti, li avrebbe messi in contatto. Le indagini dei carabinieri di Desio hanno stabilito che Germania Biondo, preoccupata di essere stata via via estromessa dalle società di Vivacqua, avrebbe pianificato il delitto insieme al suo nuovo compagno. È stato condannato a quattro anni di reclusione Don Alberto Barin, l'ex cappellano del carcere di San Vittore, che era accusato di violenza sessuale nei confronti di alcuni detenuti. I PM avevano chiesto una condanna a 14 anni e 8 mesi per 12 casi di abusi, ma il gruppo di Milano ha qualificato alcuni di questi casi come di leve entità e in altri ha riconosciuto il consenso indotto. In pratica la sentenza di oggi ha fatto cadere gran parte delle accuse contestate a Don Barin. Dopo la condanna in primo grado a risarcire 110.000 euro ai radicali Marco Cappato, Lorenzo Lipparini e Marco Pannella per difamazione nei loro confronti per la vicenda delle presunte firme false e per presentare le elezioni regionali del 2010 è stato emesso nei confronti dell'ex presidente della regione Roberto Formigoni un nuovo rinvio a giudizio, questa volta con citazione diretta davanti al Tribunale l'8 maggio prossimo. Ne danno notizie agli stessi radicali spiegando che il nuovo rinvio a giudizio riguarda le dichiarazioni che Formigoni rilasciò a Sky TG24 subito dopo la richiesta del pubblico ministero che nel primo processo chiese un anno di reclusione. I nuovi treni della metropolitana, ne avete parlato anche voi prima, di Milano si presentano alla città. Il prototipo a grandezza reale...